Nulla è stato fatto nell'immediato per risolvere le tante criticità presenti in Abruzzo in tema di viabilità, frane e depuratori. E' quanto hanno dichiarato nel corso di una conferenza stampa i consiglieri regionali Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri. Secondo i rappresentanti di Forza Italia, due mesi dall'inizio della stagione invernale esistono solo atti e provvedimenti vuoti con fondi irrisori e ancora più grave non imminenti. Oggi, hanno sottolineato Febbo e Sospiri, i sindaci dei comuni abruzzesi hanno bisogno con somma urgenza di risorse da utilizzare immediatamente. Ogni giorno si fa una conferenza stampa per annunciare milioni di euro che arrivano ai cittadini e ai sindaci. Poi andiamo a leggere le delibere o in molti casi non si trovano le delibere. Quando le troviamo vediamo magari che si tratta di programmazioni precedenti, cioè oggi Masterplan, nella vecchia legislatura si chiamavano FSC 2007-2013. Si stanno rimodulando gli FSC 2007-2013, tutte le delibere non portano né la firma del dirigente responsabile, né la firma del direttore e addirittura del ragioniere capo. Secondo me si è persa la cognizione dei fondi perché i fondi hanno un bilancio a parte, non possono essere contabilizzati dal direttore generale, ma soprattutto abbiamo anche poi, cadiamo nel ridicolo, nel caso della Pilkington addirittura facciamo un impegno forse per il 2018, cioè FSC per il 2007-2013. E così di questi esempi li possiamo vedere tantissimi. Credo che francamente ai cittadini bisognerebbe dire qualche altra cosa, soprattutto bisognerebbe dire ai sindaci come fare per riaprire le strade, come fare per portare i bimbi a scuola, i lavoratori per andare a lavorare perché le zone interne sono oramai massacrate e non riescono più veramente neanche più a viaggiare. Nella prima settimana di novembre si annunciano già rovesci pericolosi che si vanno a accumulare a strade dissestate che quindi continueranno a franare altri disservizi e noi pensiamo ad inaugurare il campo di Letto Manoppello.